A seguito dello screening effettuato presso un'attività economica alla frazione Acciaroli, sulle quali erano state riscontrate delle criticità, abbiamo rilevato la positività al Covid-19 di sette dipendenti. Lo fa sapere il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. Le unità operative sono state sospese per le necessarie attività di sanificazione e il personale stato posto in quarantena. Dei nuovi casi positivi al Covid-19, 5 su 7 avevano scelto di non vaccinarsi. La libertà di scelta rimane, ma i danni della pandemia alla salute e all'economia non potranno essere certamente fronteggiati se non ci affidiamo alla scienza, vaccinandoci, sottolinea il primo cittadino. Chi non lo ha ancora fatto può vaccinarsi il 2 settembre presso il punto vaccinale di Acciaroli. potranno accedere alla somministrazione solo residenti nei comuni di Pollica, San Mauro Cilento, Monte Corice e Serramezzana. Altri quattro casi positivi anche nel comune costiero di Castellabate portano i contagi a 14 cittadini contagiati. Lo fa sapere il sindaco facente funzione Luisa Maiuri nel consueto report serale. Ho avuto comunicazione dal Dipartimento Prevenzione dell'ASL di quattro nuovi casi positivi. Si tratta di tre persone, contatti stretti di casi precedenti e in isolamento da tempo. Un altro caso riguarda una persona temporaneamente presente sul nostro territorio per la quale è stata ricostruita la rete dei contatti, tutti in isolamento. La situazione ad oggi a Castellabate è di nuovi positivi 4, totale guariti 270, totale positivi 14.